Scoperta dalla Guardia di Finanza di Arezzo un'evasione fiscale per oltre 10 milioni di euro nel settore dei metalli preziosi, tre le verifiche fiscali eseguite dai finanzieri aretini nei confronti di altrettante società facenti capo ad un unico gruppo orafo, grazie alle quali è stata scoperta l'ingente evasione fiscale nazionale e internazionale. La segnalazione è partita dall'estero con la polizia che ha ritrovato 140 kg di oggetti preziosi ceduti in evasione d'imposta da diverse società aretine, tra cui quella controllata poi dai nostri finanzieri, recuperati circa 2 milioni di euro di ricavi non dichiarati al fisco frutto della vendita di oreficeria in nero, nonché un altro milione e mezzo di costi indeducibili dal reddito poiché sostenuti per acquisti da società in paradisi fiscali. Le indagini hanno portato ad individuare un'altra società con sede fittizia in Spagna ma che è risultato avere il centro decisionale ad Arezzo con oltre 6 milioni di ricavi non dichiarati in Italia e di accertare la presenza di un trust per il quale il capostipite del gruppo aveva usufruito illegalmente in base al regime di esenzione delle tasse di successione e donazione pari a oltre 2 milioni di euro.